Miarezzo, assieme a Prato e Firenze, è una delle province più colpite per la riduzione di pille, soprattutto per quanto concerne il manifatturiero. La motivazione è assolutamente semplice, queste sono tre città che vivono profondamente in un comparto che è il comparto della moda, che ha risentito forse di più tra tutti i settori. La produzione industriale segna un meno 20% ad Arezzo, la seconda peggior provincia in Toscana. A renderlo noto l'IRPET, l'Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana, nella nota di aggiornamento barometro Covid-19 sugli effetti economici del virus in base all'indice della produzione industriale regionale per i mesi di agosto e settembre 2020. È un insieme di cose che ha fatto sì e che sta facendo che questa nostra provincia purtroppo ha pagato e pagherà ancora nei prossimi mesi un prezzo particolarmente pesante in termini di pille. Ovviamente a pesare sull'andamento economico dei territori è la loro particolare vocazione per alcune produzioni e così quello della moda nell'Aretino è senza dubbio uno dei settori più colpiti dalla crisi. Ovviamente la maggior parte dei negozi non soltanto a livello nazionale ma anche in Europa e in giro per il mondo eccetto la Cina sono praticamente chiusi quindi ovviamente non ci sono sbocchi alle nostre produzioni. Tra l'altro noi siamo una delle promissime province in Italia per export e questo fa sì che ovviamente in un momento in cui il mercato globale è non dico completamente fermo ma con grandi difficoltà noi risentiamo tantissimo dal punto di vista della produzione dei nostri prodotti. Al momento c'è ovviamente la cassa integrazione che ovviamente compensa le problematiche che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. La preoccupazione di fondo è quella che quando terminerà la cassa integrazione e quando poi terminerà anche il divieto di licenziamento il rischio e la potenzialità di perdere posti di lavoro è davvero oggettivamente molto serio. Di cosa ha bisogno questo settore per risollevarsi? Innanzitutto avremo bisogno e necessità che i prodotti made in Italy siano davvero tutelati. Oggi siamo in un mondo globale dove ovunque si possono fare le solite cose e diciamocelo tranquillamente anche con una qualità estremamente simile da un paese all'altro ma con regole e costi totalmente diversi. Quindi fino a che non si sarà riequilibrata questa situazione il nostro paese, l'Italia in genere con il nostro made in Italy rischia di soffrire moltissimo nei prossimi anni.